I due stranieri sono stati fermati perché avevano effettuato una manovra molto strana, almeno tale era apparsa agli operatori della Polizia Stradale e infatti una volta negli uffici di San Pierdarena si è scoperto che la macchina celava molto abilmente oltre un chilo di cocaina. In realtà abbiamo utilizzato anche i cani antidroga, ma a scoprire il nascondiglio veramente molto ingegnoso, sono stati i poliziotti della Stradale grazie forse anche alla loro conoscenza profonda dei meccanismi e delle strutture degli abitacoli degli autoveicoli. I due stranieri avevano escogitato un sistema di occultamento veramente ingegnoso, un servomeccanismo attivabile tramite una calamita. Questa calamita serviva proprio ad accedere ad un vano di carico altrimenti irraggiungibile. Grazie a tutti.